Attenzione, il nostro inviato spaziale di oggi ci sta chiedendo la linea per uno scoop senza precedenti Ecco a te la linea Grazie della linea TG Wild siamo qui a Padova per raccontare una nuova storia di crisi Cosa se non si inventano le persone per sopportare la crisi Dopo i pulitori di vetro abbiamo i pulitori di strada Ecco a voi un'immagine diretta, è incredibile Avete assistito con i vostri occhi ad un evento incredibile Se non avete lavoro potete fare come lui A te la linea TG Wild Grazie mille Grav per questo tuo intervento preziosissimo Grazie mille Grazie mille Grazie mille